Un rosso? Allora, posizione del Basil posizione 1, Corrado posizione 2 e Nino posizione 3, il pollo, il più difficile, posizione 3, il più difficile, ognuno quello che ha cacciato, Nino ha fatto fuori un polaio, poi ci sono le gemelline con la mamma, le più belle gemelline del mondo, Asia e Aurora. Ciao! Ciao! Ad ora si usa la pizza di sera a 7 anni, vedi come sono cambiati i tempi? Hai ragione, si che sono cambiati i tempi, la prima festa... Un po' è in preta! Uè, Ceventano! Cheese! Come è buona? Un po' freddo! Un po' freddo, ma proprio poco poco quello! Lupo! Eh, no, adesso no! Andavo a lavorare con lo scu... Ma ecco, com'è c'è... Mi ha detto che ho fatto la mia... Si è comprato maglia... Un po' è il concetto, però... In tale di stare più di avere in una cassa... Ma tanto voi fate 24 ore? Ma poi sono... La festeggiana? Sono 24, ma poi abbiamo 80 ore di video... Ma che è sto dito? Abbiamo ore che non si calcolano... Ma scusa, se facevi quello medio... E tutte le ore che io intengo a correre... No, è cosa... E' quello di conferma! E' quello di conferma! Dai, lo faccio io, dai! Eccolo qua, per Adriana! Aspetta, riprenda dopo quando arriva il mio comare! Come? Giulia? Un sorriso per la stampa! Cis... Un sorriso per la stampa! Quello che era a Capodanno... Rimandiamo a Capodanno! Qual è quello di Capodanno? Quello che abbiamo combinato a Capodanno! Riprendi la principessa più bella del mondo! Sveva! Eccola qua! Guarda come arriva! Riprendi la principessa più bella del mondo! Quella bambina! Dove? Dove? Dove la principessa? Sveva la principessa? Dove? 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 Dove eravamo rimasti allora? Quest'anno tutte erano... Festeggiata! Guardami in faccia! Dove eravamo rimasti! E poi Capodanno! E poi Capodanno! Ma ancora! Ma non si è stanca! Non lo so! No! Magna! Nel senso che anche se... Chiaramente in quinta... L'amore di lavoro... Cosicine passa più! Molto più... Vino! Esatto! Importante! Viva! 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 Non l'ho vista! Da leggere e scrivere! Allo stare seduti! Allo rispettare le regole! oi nigeria uei 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 grande uei ciao dai 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 rifallo che non ti ho visto ciao uei e chiamo e perchè se no dopo mi arrabbio e allora ti machiazzi dai che sto parlando serio dai che sto parlando serio però sto parlando serio quanti anni sono passati eravamo rimasti a questo giac a questo giac e perchè dicevo ma se io lo so qui e tu sei lì ma allora cosa ci fanno loro qui è chiaro ma quanti anni sono passati eh da quando si è sposato sai però poi ha delle figure che entrano per un'ora perchè se noi abbiamo l'orario di 22 ore i bambini hanno 27 e più d'ora di menza come può esserci l'insegnante unico e poi entra comunque quella di religione comunque quella di inglese quella che ha tutte le ore non ce la fa a coprire quindi comunque entrerà sempre almeno quattro persone cioè ti fanno i conti però Alessandro la prima e la seconda elementare aveva una fila ma è religione che viene facendo H2 eh Evelin vieni qua Federica Adriana Evelin vieni che c'è vai 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 dai che ti riprendono dai vieni vieni che ti riprendono Evelin che spazza chiede a me che c'era ieri in patria evelin che c'è ciao 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 dai spazzo 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 in bagno ok no si va la pipì in bagno ciao fai ciao e di come ti chiami però mi chiamo Arturo Arturo Vidal si stavo pensando proprio a quello e allora fai ciao ciao da Arturo ciao mi chiamo Arturo vicino a tre per i virali si Ninò lei chi è? Aurora Aurora? si ma ma l'Asia dove è? dove è l'altra? a posto a posto Aurora? va bene Aurora e l'altra dov'è? là dietro di te dietro di me lei è Aurora e io sono Arturo Vidal e lei è? si Asia Asia e io sono Arturo Vidal e tu sei Arturo Vidal e bravo Arturo Vidal ciak dai ciak dai mi amo 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 i gatti Vidal sono azzurro il pomeriggio è snano Aspetta che lui è alto Sio E invece C'è l'entrano? E' chiaro no? E' chiaro no? Chiaro cosa dai Compà 3 a 1 3 a 1 Ma per chi? Cerco l'estate Tutto l'anno E all'improvviso Eccola qua Eccola qua La birra Eccola qua Andrere che cos'è? L'oraggio per te è il tuo amore Dai bevi Peroni E' come Chef Rubio Inter merda l'è Inter merda l'è Inter Inter Vaffanculo Inter Vaffanculo E' tanti auguri a te Tanti auguri a Adriana E' tanti auguri a te E' tanti auguri E' la torta 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 e allora questa 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 torta questa l'ha fatta in friulano come si dice scusa è uguale è uguale è uguale è uguale è uguale da noi invece una paletta una paletta e un coltello lei è la festeggiata e voi la mangiate ma scusa ma la deve tagliare la festeggiata almeno una striscia la deve fare la festeggiata ma che c'entra no che vuol dire no scusa che bella torta ecco la festeggiata è già imbriaca la torta ma chi è che scatta le foto scusate vuoi la torta ma le foto il fotografo dov'è il fotografo di turno aurora guarda che c'è la torta adesso guarda aurora aurora bella cioè io non la capisco non lo so 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 e sbottiglia qua sbottiglia qua sbottiglia qua dai cortesemente la botta la botta vieni qua facciamo insieme fatelo venire dai asia tieni tieni asia non lo so non lo so non lo so ma questa vuole aprire la bottiglia non lo so non lo so non lo so non lo so oh adesso arrivo e allora aum avvena poi rimetti il bicchiere dai 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 tre macchi auguri bacio 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 ah allora quante chi VISTA ok da Vieni, vieni a mangiare!